Siamo con l'avvocato Enrico Tiboni, presidente della Cappa Sport Montecchio, società sportiva di calcio, di nuovo protagonista di una importante serata che unisce i valori dello sport ai valori dell'istruzione. La consegna di borse di studio, l'annuncio dei vincitori delle borse di studio per quella che è un'iniziativa che andiamo a capire meglio come è strutturata. C'è un regolamento e questo regolamento permette a coloro che sono residenti nel comune di Vallefoglia oppure coloro che sono iscritti in una società sportiva di Vallefoglia di partecipare a questa borsa di studio. Una prima edizione c'è già stata nel 2019, andiamo a premiare comunque sempre i ragazzi più meritevoli. 2019 ha avuto successo ma l'ha avuto anche questa campagna di candidatura, avete avuto un buon numero di riscontri? Sì, diciamo che abbiamo inoltrato le domande a tutte le società sportive. Le società sportive sono state brave a rispondere, hanno segnalato per ogni società sportiva tre candidati e ogni società sportiva nel segnalare i candidati dovevano fare una relazione di questi tre candidati mettendo in evidenza la partecipazione, le presenze, le prospettive future, i risultati che hanno avuto questi ragazzi da punto di vista sportivo agonistico nonché allegare la pacella di scuola. Quindi noi poi tramite una commissione che abbiamo fatto, abbiamo fatto una media dei risultati sia sportivi sia una media dei suoi risultati scolastici. Alla fine andiamo a eleggere i tre candidati, però andiamo a eleggere i tre candidati ai quali verranno consegnati degli assegni, cioè una borsa di studio e quindi al primo 800 euro, al secondo 400 euro e al terzo 200 euro. Tutti quanti, circa 25 ragazzi, sono già ragazzi selezionati, sono già eccellenze del nostro territorio. Un grande ringraziamento va alla famiglia Conti, a Teresa e a Corrado, genitori di Teto, i quali hanno contribuito, anzi hanno sponsorizzato l'edizione, sia questa sia la prima edizione e va a un ringraziamento speciale perché sono stati coloro che ci hanno permesso di realizzare la borsa di studio, il fattore economico è grazie a loro. E dunque l'appuntamento è per giovedì 15 settembre in quella che tra l'altro sarà l'apertura della Sagra della Polenta a Vallefoglia. Sì, infatti siamo d'accordo con quelli della Proloco, loro fanno la Sagra della Polenta per quattro giorni, è praticamente giovedì, venerdì, sabato e domenica e il giovedì ce l'hanno riservato a noi per fare questa premiazione della borsa di studio. Contemporaneamente nella serata, siccome che sono, come dicevo, anche presidente del K-Sport Montecchio, ho ritenuto fare la presentazione insieme ai collaboratori della società sportiva, che saranno presenti quella sera, di fare la presentazione della prima squadra. Prima squadra che è in promozione, una prima squadra che è stata allestita anche per fare bene, quindi adesso vediamo.